Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, buon inizio di settimana. Oggi saremo in live dalle 13.30 in poi su Twitch, quindi vi aspetto per giocare insieme su Warzone per parlare di tutte le novità che arriveranno nel corso della mattinata. Piccola parentesi su Code Mobile e poi ci buttiamo a capofitto all'interno di Modern Warfare. Vi faccio vedere nuove immagini delle novità in arrivo su Code Mobile, la mappa Meltdown direttamente da Black Ops 2 da una nuova inquadratura, nuove varianti arma per quanto riguarda l'M4 e la K117 e l'Iker Mulda Plus conferma che arriverà nel gioco, come vista ad esempio su Modern Warfare, anche qui la modalità 2v2. Ma buttiamoci a capofitto all'interno di Modern Warfare perché vi devo far vedere un sacco di cose. Sta circolando in rete questa immagine che raffigura la presenza in gioco di un nuovo token leggendario che è possibile trovare nelle casse o tramite contratti e spazi per la mappa. A prima vista questo token darà la possibilità a chi lo possiede di saltare lo scontro 1 contro 1 nel Gulag e quindi un rilascio immediato. L'Infinity World non ha dichiarato nulla in merito a questa immagine che è stata pubblicata da Liker Remy. Staremo a vedere se è una cosa reale oppure un fake. Vi darò aggiornati sulla notizia. Ieri la mia fonte mi ha informato che sono previste diverse novità in arrivo questa settimana per quanto riguarda le multiplayer e Warzone ma non mi ha potuto dire nulla a riguardo. Sempre la mia fonte mi informa che molti sviluppatori sono stati costretti a lavorare a casa e soltanto pochi in ufficio per via del coronavirus. Tutto ciò sta rendendo più difficile rilasciare ulteriori aggiornamenti come il community update che era previsto per venerdì ma poi non è stato più rilasciato. Vi faccio vedere inoltre il programma della manutenzione Blizzard per i possessori del titolo su piattaforma PC. Come potete vedere il 26 ci sarà della manutenzione dei server Blizzard quindi mi raccomando mettetevelo in scadenza per chi gioca su PC ci saranno appunto dei malfunzionamenti dovuti appunto alla manutenzione dei server su Call of Duty Black Ops 4 e per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare. Joseph Cott invece ieri ha rilasciato diverse informazioni per quanto riguarda le novità su Warzone. Ha informato innanzitutto che ne arrivò la soluzione per garantire che i giocatori ricevano l'attribuzione dell'uccisione se hanno abbattuto un giocatore che poi ha lasciato la partita prima di essere stato ucciso definitivamente. Vi capita alcune volte di mandare a terra un avversario che poi abbandona la partita e quindi non vi danno la kill. Un'altra cosa interessante ha annunciato che nei prossimi aggiornamenti arriverà un potenziamento delle Semtex. Quando saranno attaccate i nemici queste all'esplosione manderanno sempre a terra il nemico. Ha confermato inoltre che arriveranno delle opzioni per segnalare i giocatori scorretti e un fix per un bug che si presenta quando si cambia tra il singolo fuoco e il fuoco automatico e che non fa addirittura cambiare l'arma. Arriveranno inoltre un fix per un bug che fa apparire un fascio bianco nella schermata mentre si gioca. Queste al momento le prime conferme ufficiali delle novità sui bug e fix previsti su Warzone. Vi ricordo che domani sera è previsto un aggiornamento di cui vi darò maggiori informazioni nelle prossime ore. Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci vediamo alle 13.30 in live su Twitch così giochiamo insieme ed approfondiremo tutte le notizie che usciranno nel corso della mattinata e appuntamenti invece su YouTube domani ore 7 con un nuovo video informativo. Grazie a tutti.